Era nata nel 2015 da parte dell'Associazione Valle dell'Assino l'idea di fare del vecchio tracciato dell'ex ferrovia dell'Appennino Centrale 1887-1944 nel tratto compreso fra Umberti, De Gubbio e Fossato di Vico una ciclovia, un percorso di mobilità sostenibile e di valorizzazione paesaggistica e storica. Dopo sei anni l'idea ha trovato finalmente concretezza. I lavori, ora in corso a ritmo serrato dopo la conclusione della gara di appalto, termineranno entro fine anno e permetteranno di rendere fruibile e percorribile lo splendido tracciato bombardato in tempo di guerra che si snoda lungo la valle del torrente Assino per i primi 22 chilometri, da Umbertide fino a Moccaiana e dunque nella valle Ugubina in quella del Chiascio, per poi raggiungere la vecchia stazione di Fossato di Vico, capolinea della ex ferrovia. Di 2 milioni la cifra stanziata dalla regione Umbria per il recupero del tracciato, 1 milione il finanziamento della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Nel sopralluogo tenutosi stamane alla presenza fra gli altri del sindaco di Gubbio, Filippo Sirati, della presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo, del presidente dell'associazione Valle dell'Assino, Vittorio Fiorucci, dei tecnici e dei progettisti del comune di Gubbio, si sono visitati i punti salienti del tracciato, la stazione di Serrapartucci, le gallerie. A nome della fondazione non posso che esprimere la nostra soddisfazione per vedere appunto giungere a compimento, parzialmente a compimento, un'opera su cui noi abbiamo creduto fortemente fin dall'inizio. E' veramente oggi una grande soddisfazione poter vedere questi mezzi all'opera per la realizzazione di un'infrastruttura che noi crediamo uno snodo fondamentale e anche un'attrattiva turistica per il nostro territorio, in quanto riscopre una valle incontaminata, stupenda e che tra l'altro collega anche delle località umbre su cui forzatamente i ciclisti dovranno fare delle tappe. E quindi crediamo che sia, come sempre la fondazione ha creduto, un altro di quelle infrastrutture recuperabili che possono aiutare a creare appunto sviluppo economico per il nostro territorio. Credo che questa realizzazione, della quale ovviamente va sicuramente un fortissimo ringraziamento alla regione dell'Umbria e alla fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, rappresenta senz'altro un investimento per l'Umbria e per un turismo che sia sempre più di qualità e sempre di più proiettato verso un godimento del nostro patrimonio paesaggistico ambientale che insieme ai centri storici e alle bellezze rappresenta veramente una straordinaria forma di promozione dell'intera regione. Grande entusiasmo da parte di tutti i soggetti coinvolti per l'importante opera di realizzazione che costituirà un notevole valore aggiunto per il turismo, soprattutto quello slow, ciclabile, esperenziale. Il tracciato costituirà l'ennesimo e virtuoso esempio di mobilità alternativa come quello della Spoleto-Norce in Umbria, ma anche della Grossetofano, mete amatissime tanto dagli italiani quanto dagli stranieri. Nel 2019 il cicloturismo, secondo il Sole 24 Ore, ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti corrispondenti al 6,1% del totale e generando una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro.